E quindi tante cose positive, non abbiamo preso gol, abbiamo gestito bene questa gara, soprattutto anche quando eravamo in 11 contro 11, perché è questo che conta. Poi abbiamo gestito ancora più tranquillamente, perché peccato per il mio pupillo Maxime Lopez che è stato espulso, sembra che parla bene l'italiano adesso, forse non lo so quello che è successo, però devo dire che c'è una cosa negativa, abbiamo preso troppo poco la porta. Secondo me non arriviamo neanche a 20% di tiri inquadrati, la logica vuole che se non inquadri non fai gol, è per questo che abbiamo fatto solo due gol. Non parlo del rigore, perché il rigore, tutti i grandi giocatori nella storia del calcio ne hanno sbagliato almeno uno, però un po' di sfortuna per Giacomo sul palo all'inizio e poi tanti tiri, però fuori specchio. Grazie. Salve, buonasera. Vorrei chiederle, dopo la stagione che è appena finita, c'ha un altro aggettivo per Giovanni Di Lorenzo? Stavo scherzando con Rai Radio, mi sono detto che forse il capitano vuole giocare attacante, non è possibile, visto che ha fatto due assist a Frosinone e un gol stasera. No, veramente un giocatore importantissimo per noi, non solo perché ha la fascia di capitano, ma anche perché sul lato destro fa grande cose, è capace di difendere bene come l'ha dimostrato e anche di attacchere con qualità e sono contento per lui perché se lo merita. Ciro Trois e Corriere della Sera. Mister, complimenti per la vittoria e per la prestazione. Mi ha colpito un'immagine di fine partita, ha radunato tutta la squadra e ha detto qualcosa a loro, volevo chiedere se è una prassi che vuole introdurlo, se la partita l'ha così convinto e quindi ha voluto fare i complimenti e poi se entro venerdì si aspetta qualcosa, qualche innesto dal mercato. No, potrei fare una bella bugia dicendo che volevo essere sul campo con i miei giocatori perché il campo è bello con i nostri tifosi che sono stati fantastici stasera, veramente. Però di solito non faccio così, è solo per una questione pratica, visto che hanno vinto il premio e di non allenarsi domani, però visto che non ci alleniamo domani, c'erano dei giocatori che dovevano lavorare e non mi andava di farle entrare nello spogliatoio per riuscire dopo, è solo una questione pratica. Ah, c'era una domanda sul mercato, ma a chi l'ha fatta? Le signorine lì. Ah, ok, puoi rispondere lei. No, niente su questo. Speriamo che... quando è? 31 agosto o primo settembre? A mezzanotte? Alle 20, mamma mia, è bello, no? Guadagniamo 4 ore. Solo questo. Mister, ormai non è di calciomercato, ma ne hanno parlato tanti allenatori, volevo anche un suo commento sulla scelta di Gabri Veiga di giocare in Arabia Saudita, visto che è un campionato che lei conosce. Sì, esatto, e soprattutto parlo dei miei giocatori, non degli altri. Buonasera. Volevo tornare un attimo sulle scelte e sui singoli. Olivera ha giocato la seconda partita titolare dopo Frosinone. È più una ragione tecnica o c'è anche una questione che Mario Rui è uno di quei calciatori importanti che non sono ancora in condizione? Esatto, è solo questo, perché io ho la fortuna di avere due grandi terzini a sinistra, sia Olivera che Mario Rui. Però Mario è stato infortunato durante la preparazione, non era importante, però ha mancato un paio di giorni e soprattutto di amichevoli. Quindi era tutto normale che Mattia Solivera iniziava il campionato. Ho potuto dare un po' di minutaggi a Frosinone e a Mario. Oggi era un po' differente, però ovviamente avrà il suo momento, perché, come l'ho detto, sono due ottimi giocatori che si somigliano su alcuni punti e sono differenti su altri. Quindi mi dà anche soluzioni offensivi, difensivi, differente. Buonasera. Buonasera. Nel Napoli soprattutto uno step ulteriore rispetto alla partita di Frosinone, ma mi soffermerai soprattutto su Anghissà. Che giocatore, grande personalità, ma poi non solo rottura, riesce anche a dare quando vuole le geometrie giuste? No, lo conosco bene, visto che ha iniziato con me a Marsiglia, è cresciuto ancora tanto, perché era giovane all'epoca, ha fatto un po' di percorso in differenti campionati, sia l'Inghilterra che la Spagna. E poi è arrivato con il risultato che conosciamo l'anno scorso qua in Italia a Napoli. È un giocatore importantissimo, un leader anche per la squadra e sono contento anche di averlo con me di nuovo. E sì, adesso può prendere anche tanta responsabilità sul campo e fuori campo. Buonasera, mister Garzia, se la coesistenza di Ossimen insieme a Simeone è uno di quei piani B o C a cui faceva riferimento nel lungo pre-season degli Azzurri e poi Nathan, quanto manca? Che cosa gli manca ancora per entrare in campo? Nathan, lasciamolo tranquillo, arriva dal Brasile, è giovane, non parla la lingua, deve imparare l'Italia, deve imparare il calcio italiano e deve imparare il calcio del Napoli. Quindi lasciamolo tranquillo, io lavoro con lui, lo faremo crescere tanto, è un acquisto importante per noi perché veramente lo vedo ogni giorno e si sta sciogliendo, è meno timido che all'inizio e quindi crescerà ancora per aiutarci, ne sono sicuro. Devo dire che Juan Jesus dà grande soddisfazione dietro, che c'è anche Leo Stigar, quindi siamo messi bene. Sulla associazione di Ciolito e Victor, era possibile stasera farlo perché eravamo 11 contro 10 e sarà possibile farlo quando ci sarà da fare un gol per vincere la partita. Quindi peccato perché penso che Ciolito poteva segnare, però si è dimostrato pericoloso e poi prende anche un po' d'abitudine con Victor perché giocare a due punte è un po' differente. Ultima Mario Favroni, letto. Volevo un giudizio sulla partita di Raspadori, a me sembra che abbia corso come un forsennato nel primo tempo, credo che forse sia dalle statistiche che non le ho viste, ma credo che è il giocatore che ha corso di più in assoluto. E poi Victor Resimena ha fatto pure il recupero difensivo. Sì, ha fatto gol, ha fatto un gesto di giocatore fuori classe di dare il secondo rigore a Raspadori perché poteva accalciarlo lui. Quando sappiamo che un giocatore è stato capocadoniere l'anno scorso, lasciare a un altro la possibilità di fare gol è veramente una cosa importante. E poi su Raspadori a me piace questo giocatore perché veramente offensivamente sa fare tutto. Farà dei gol, farà dei assist, può giocare in tanti posti della squadra e poi, come lei ha detto, difende, aiuta la squadra, corre. E quindi, a parte un po' di sfortuna sul suo tiro sul palo, io sono contento della sua partita. Sbagliare un rigore è già successo ai più grandi giocatori della storia del calcio. Grazie a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a tutti.